Il frattempo è cresciuto in giornata, voi raccontavate questa intervista. Stiamo parlando del principe ereditario saudita che l'ONU, non io, l'ONU, indica come il mandante dell'assassinio di Khashoggi, che era il principale giornalista oppositore del regime di Riyadh, che è stato ucciso, tagliato a pezzi e infilato in una valigia. Gli Stati Uniti, Biden, appena insediato, hanno bloccato le forniture di aerei militari F-35 all'Arabia Saudita. Il nostro governo oggi, in seguito a una mozione parlamentare, per questo è accaduto oggi, ha bloccato l'esportazione di armi verso l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è un tradizionale alleato dell'Occidente e degli americani, quindi capita che l'Occidente, dato che le nostre imprese fanno affari lì, abbia rapporti con questo regime. La cosa inaccettabile è che un senatore vada a fare degli eventi in Arabia Saudita in cambio di 80.000 euro e faccia un talk nei panni dell'intervistatore, magnificando il suo interlocutore Bin Salman, dicendosi onorato di essere in sua presenza di un nuovo rinascimento. Stiamo parlando di un paese che calpesta i diritti delle donne, calpesta i diritti dei lavoratori, sfrutta come schiavi, pagandogli una miseria gli immigrati. E tra l'altro c'è un passaggio sul lavoro di Renzi che voi mettete in evidenza. Il nostro senatore ha detto che invidia il loro costo del lavoro, quindi se il modello del nuovo rinascimento è quello c'è da avere paura. Senti Marco, è nello specifico che la critica è durissima? O diciamo perché Renzi lo rivendica, lui dice io faccio come tanti altri ex premier e fa riferimento a nomi importanti che girano il mondo e vanno a fare conferenze. Quindi il punto è quel tipo di intervento. Quegli altri ex premier non sono parlamentari in carica e leader di una forza politica attualmente in Parlamento. Sono degli ex che molto inopportunamente, secondo me, mettono al servizio dei propri affari le relazioni che hanno intrecciato quando erano istituzioni. Questo è un altro paio di maniche, anche perché noi sappiamo che una delle ragioni per cui quel signore ha fatto cadere il governo Conte è perché diceva che Conte è autoritario, è un pericolo per la democrazia. Invece Bin Salman è un sincero democratico, evidentemente. L'altra accusa era quella di avere rapporti con Trump, cioè del presidente che non ha eletto Conte ma che hanno eletto gli americani cinque anni fa, di un paese col quale abbiamo sempre avuto a che fare, essendo il nostro principale alleato, in qualsiasi vertice internazionale. Io credo che tra lo stringere la mano a Bin Salman e lo stringere la mano al presidente pro tempore americano ci sia ancora una differenza. Allora, veniamo alla...